Musica Continuiamo il nostro viaggio alla scoperta del territorio, alla scoperta di prodotti made in Italy e lo facciamo sempre da qui, da questo splendido studio allestito all'interno della casa di Miss Italia IESOLO Oggi il laboratorio di gusso ha focalizzato la sua attenzione sulla dolcezza quindi parleremo di un dolce tipicamente campano, esattamente napoletano Musica Questo prodotto di una bontà incredibile, il babà Musica Buon appetito a tutti Buon appetito Buon appetito Buon appetito Buon appetito Buon appetito Buon appetito